Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Piero e mi occuperò per questa rubrica del bar sport dei milanisti del web mi occuperò di AS Roma, iniziamo benvenuti in questo mio primo video dove fondamentalmente andrò a parlarvi di quella che secondo me è stata la stagione della Roma 2019-2020 appena conclusa con la vittoria allo Juventus Stadium per 3-1 Dunque, che stagione è stata? Fondamentalmente la Roma per il suo secondo anno consecutivo non va a centrare il suo obiettivo minimo che è quello del quarto posto che garantisce l'accesso e la partecipazione alla Champions League l'obiettivo fondamentalmente è sempre vitale per la Roma che deve sempre fare i conti con il suo fatturato che non è così grande e quindi poi deve basare le sue possibilità di spesa proprio su gli introidi e la Champions League contribuisce in maniera abbastanza importante alla gestione di questi introidi quindi per tale motivo possiamo definire la stagione della Roma per il secondo anno consecutivo fallimentare Allora, bisogna fare delle premesse questa era, a detta del DS Petrachi era una stagione che poteva partire dal concetto di anno zero questo sicuramente è vero quindi in teoria un anno zero un quinto posto di un anno zero potrebbe essere anche in qualche maniera accettato però dobbiamo considerare dei fattori siamo in un campionato dove il Napoli che vince la Coppa Italia ma il Napoli fallisce l'obiettivo del campionato quindi il Napoli non è mai stato in corsa né per lo scudetto quanto meno per il quarto posto e il Milan stesso arriva addirittura dietro la Roma quindi laddove Napoli e Milan falliscono la Roma non può classificarsi al quinto posto questo è il concetto è vero che ci sono state due squadre che hanno performato in maniera clamorosa l'Atalanta ha confermato quanto di buono aveva già fatto nella scorsa stagione la Lazio clamorosamente entra tra le prime quattro dico clamorosamente perché la Lazio partiva molto indietro non è che abbia fatto poi questi grandi accorgimenti nella Rosa quindi ci sono due squadre che hanno fatto delle stagioni incredibili ma la Roma arriva a otto punti da queste due squadre quindi due squadre che hanno se andiamo a vedere poi un parametro diciamo oggettivo che è quello del Montengaggi hanno uno ai due terzi di Montengaggi della Roma cioè la Lazio e uno addirittura un terzo che è l'Atalanta quindi io credo che nel momento in cui Napoli e Milan vanno a centrare il loro obiettivo e fanno un campionato deludente la Roma come minimo debba arrivare terza per la Rosa che ha, per gli investimenti che ha, per gli ingaggi che ha quindi nel complesso stagione fallimentare ovviamente potrebbe essere salvata in calcio d'angolo questa stagione con l'imminente Europa League che inizierà tra poco settimana prossima ma è chiaro che non è possibile definire una stagione positiva insomma laddove poi l'Europa League non venisse vinta perché ricordo che l'Europa League ci darebbe l'accesso diretto alla Champions League addirittura da testa di serie è chiaro che non, cioè, molto difficile cioè parliamo della competizione dove ci sono quattro partite da giocare scontro di Gretto è vero che è un mini torneo, un mini mondiale dove può succedere di tutto però ci sono squadre oggettivamente molto più forti di noi quindi soltanto un miracolo potrebbe salvare questa stagione e portarci all'obiettivo della Champions League che stagione è stata? è stata una stagione molto molto strana perché la Roma da settembre io dico settembre, non considero le prime due giornate di agosto dove la Roma era incompleta non c'erano Smalling e Mkhitaryan era una squadra diciamo tutta tutta da scoprire anche a livello diciamo di gioco e a livello tattico però da settembre a dicembre la Roma fa un campionato eccezionale nonostante sia stata falcidiata dagli infortuni quindi la Roma veramente ha giocato delle partite con 11 calciatori contati poi uno dopo l'altro andavano si renderanno indisponibili quindi sembrava quasi una maledizione ma nonostante ciò la Roma è riuscita a fare una grandissima prima parte della stagione purtroppo Roma finisce a Firenze in quella Fiorentina-Roma bellissima vittoria finisce là perché dopo i mesi successivi quindi gennaio, febbraio e marzo poi prima del lockdown presentano una squadra clamorosamente di involuzione sia a livello di gioco che di risultati e fondamentalmente la stagione si compromette lì perché poi non basta una buona diciamo una buona fase post lockdown che nonostante le sconfitte contro Milan-Napole-Udinese sottolineo soprattutto l'Udinese Roma riesce diciamo poi ottenere un pareggio con l'Inter e poi tutte vittorie soprattutto un filotto diciamo delle ultime gare che legittima diciamo la fase post lockdown che la fa considerare sicuramente buona però purtroppo c'è stato quel blackout il 4 gennaio, febbraio che rende la stagione fondamentalmente fallimentare non dobbiamo sottovalutare il fatto che questo insomma può dipendere veramente dal passaggio societario che di fatto era concluso il 31 dicembre con un accordo di massima trovato e la settimana prima del dello stop del campionato qualche giorno prima addirittura James Pallotto e Dan Friedkin stavano firmando il singing quindi il passaggio di società e questo sappiamo benissimo che a livello a livello diciamo anche inconscio nei calciatori in tutto l'ambiente diciamo porta via delle energie psicofisiche e diciamo mette una sorta di incertezza quindi probabilmente quella fase di gennaio, febbraio al di sotto delle nostre aspettative potrebbe essere anche giustificata in questa maniera comunque andiamo in Europa League abbiamo una buona base da cui ripartire quindi diciamo fondamentalmente soprattutto l'allenatore che sembra aver trovato la quadra con questa difesa a tre questo modulo diciamo tre, quattro, due, uno che ha portato diciamo il filotto delle ultime le ultime gare il filotto di vittorie quindi fondamentalmente riusciamo ad essere ottimisti per la costruzione di una squadra per la prossima stagione che possa quantomeno puntare ad arrivare al quarto posto e quindi a tornare finalmente in Champions League che è il posto che ci compete perché in Champions League abbiamo anche fatto bene negli ultimi anni quindi tutto qua stagione negativa ma con una buona prospettiva ok io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video ciao